Ben ritrovati dalla redazione di news24.city Trinitapoli o omicidio derosa un'esecuzione vera e propria ipotesi regolamento di conti al lavoro anche nella notte i carabinieri. Ruvo di Puglia, donna trovata morta in casa dal suo compagno. Si tratta di una casalinga 43enne al via alle indagini dei carabinieri. Taranto organizzavano rapine, poste, gioiellerie, arrestato, ultimo componente della banda. Si tratta di un 57enne di Pulsano rintracciato a Grottaglie. Matera 2019, grande successo per la festa inaugurale. Ora tra i sassi si attendono oltre 700.000 visitatori. Brindisi e Picasso da Sbornia, Armani Jeans, Milano al tappeto. Vittoria al Palapentassuglia dei Biancoazzurri per 101 a 92. Puglia Serie B, Foggia Corsaro a Carpi, pari del Lecce. Contro il Benevento, Serie D, primo K.O. del Bari con la Cittanovese, Occhi, Cerignola e Fidelisandria.